Il momento Oh mio dio Che bello Mamma mia oddio Vabbè pass battaglia qua Cos'è? Vabbè non mi interessa questo qua Sinceramente proprio Ok pass oggi vediamo Ci danno questo schermo Vabbè non ci mi interessa questo il balletto Ah il remix Tipo quel balletto Mi ricordo Dalla stagione 4 tipo Vabbè Paladina, Spectra Vabbè il Cavaliere Rosso Fusa con Narc Seconda pagina Eh vabbè Cioè le cose abbiamo qua Picconi Va bellissimo Mamma mia Gelato bananita Va bellissimo Nel tavlano GG E bananetto Che bella bananita Fusa con un cornetto Va bellissimo Comunque la stagione finisce il 3 dicembre Alle ore 4 Vabbè Poi abbiamo il secondo stile Oddio Oddio quella schermata di caricamento Madonna mia Benetto al tè verde Bello Quarta pagina Ci danno Ah Oddio quella schermata di caricamento Adesso mi ricordo come Di cosa era adesso Però Già l'ho visto Il tavlano Vabbè è cavalcabile Allora Links Rinegata La Renegade Rider Fusa con Links Oh mio dio Troppo bella Vabbè Dub Sonnecchiante Ok Secondo stile Della skin Di Links Rinegata Della tempesta oscura Poi abbiamo Sesta pagina Vabbè è un altro Babbè è un altro Babbè è un altro Piccolo tracker E poi Omega Rock Wow mamma mia Raganarock Fusa con Omega Settima pagina Massacro d'inverno Bello Mi piace Mi piccone Box gratuito Del tavlano E poi Omega Rock Rammatura dell'Araldo Oh madonna Ok Vediamo Dio Vediamo Se fosse dello shop Eh del pass battaglia Vabbè che fosse Del pass battaglia Sesta skin Però vabbè 1600 di bucks GG Quale il rosso Con barolo lucente Ninja OG Oddio Buga Ah hanno fatto uscite Le skin Questo vuol dire Del vecchio Mamma mia Visualizza Vabbè Quanto costo a vedere Ok Leggermente nei gotti 13 ore Ok Non siamo su pass battaglia Giri Compense bonus Danza montana Non mi piace troppo Sinceramente Ah pure qua Di ogni V-Bucks Va bene Vabbè Questo qua si blocca Tra due settimane Dove possiamo personalizzare La skin del Cavaliere E quella Quindi ci sono 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Ah 1000 V-Bucks Ok Ma è cambiato Vabbè Ti faccio la skin a caso Diciamoci Boh C'è scherzo Cristallo Sileprismati Vabbè Allora utilizziamo questa Quindi Mamma mia Frede Cosa abbiamo qua poi Fortuno di settimana 1 Amicoli Preparati Per acrobazie Scandenato Vabbè Mi interessa Vabbè Ok Mettere Zero No Diciamo Battaglia reale No Non vuole fare Cassificate Stiamo pronta Aspettate Ho sbagliato Eh abbiamo sbagliato Un'altra volta Aspettate Ok Sono troppo Dov'è E questo Giusto Mettiamo pronto Sto capendo Un Vabbè Terzetti Io non voglio mettere Terzetti Però vabbè Vabbè Se vogliamo giocare Mettiamo Riempi Ma Mettiamo Terzetti L'ho messo a casa Mettiamo pure Riempi Comunque Sono in tutto 50 livelli E 7 pagine Dov'è la mappa Vediamo la mappa Dov'è Vediamo la mappa Oddio No No Ecco Dovete sapere Che C'è un gioco Nel capitolo 1 È Troppo bello La botola della latrina Proto avventurato L'Ande letali Progo bislacco Pino Condotti Palmeto Rifugio Passatevi un po' Mamma mia Vabbè Inispiegabile C'è La botola della latrina 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 La botola della latrina